Mettiamone assieme e diamoci gli strumenti adeguati per arrivare dove vogliamo arrivare. Io non voglio più riaprire discussioni su primari o non primari, perché vengono fuori delle robe ideologiche che io non voglio più aprirci. Io dico solo a Tuadino, che ha fatto bellissimo intervento, ma gli è scappato di dire che le primarie sono l'essenza del PD. L'essenza del PD è che questo mondo così non ci piace molto, l'essenza del PD è che Milano, governata da una destra dei grandi affari, non ci piace, punto. Questa è l'essenza del PD. Quindi, gli strumenti si adattano se vogliamo rivolgere la società civile, come può essere in qualche caso. Non è detto che la società civile sia lì che corre a mettersi dentro i nostri schemi. Bisogna discutere, bisogna dialogare, non bisogna chiudersi. Quindi, questo è, non bisogna chiudersi. Ho finito. Io vi ho detto all'inizio che il nostro problema è se siamo all'altezza delle nostre responsabilità. C'è un sacco di gente che ha bisogno di noi. Secondo me, senza un riformismo vero in questo Paese, la nuova generazione, è difficile che abbia una prospettiva. Abbiamo delle responsabilità grandi. La prospettiva politica è contendibile, pur in questo quadro di disaffezione, di disamoramento e di distacco. Abbiamo le nostre responsabilità, bisogna lavorare. Abbiamo trovato in questi giorni veramente un clima buono, positivo. Io vi ringrazio tutti di questo. Adesso devo andare una settimana in Cina. Non è che quando torno... Grazie a tutti. Grazie. Mentre accompagniamo il segretario...